Assenti il sindaco Giorgio Ferroni, per un intervento chirurgico subito nei giorni scorsi, e il consigliere di minoranza Stefano Maesano, nella seduta del consiglio comunale di martedì sera a Crevola Dossola. Tutto è filato liscio, senza nessun colpo di scena. La minoranza, in maniera costruttiva, si è astenuta sulla variazione di bilancio approvando però alcuni regolamenti come quello dell'uso della palestra. Grazie a tutti.